Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi abbiamo delle rivelazioni sorprendenti che scuoteranno il mondo della politica e del gossip italiano. Sì, avete capito bene! Parleremo di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno e delle indiscrezioni che stanno circolando su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Restate con noi perché, fidatevi, non vorrete perdervi neanche un dettaglio. Prima di iniziare, voglio farvi una domanda. Cosa ne pensate delle coppie famose che si riuniscono dopo una separazione? Scrivetelo nei commenti! E ora, entriamo nel vivo della questione! Ma prima di continuare, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre esclusive. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è una delle figure più influenti nel panorama politico italiano. Non solo per le sue idee e la sua determinazione, ma anche per la sua vita privata che, inevitabilmente, attira l'attenzione dei media e del pubblico. Andrea Giambruno, giornalista di Mediaset e noto volto televisivo, ha condiviso con lei un percorso sentimentale che sembrava concluso. Negli ultimi mesi, però, voci sempre più insistenti parlano di un riavvicinamento tra i due. Fonti vicine alla coppia suggeriscono che, dopo un periodo di distacco, Giorgia e Andrea abbiano deciso di darsi una seconda possibilità. Ma cosa c'è di vero in queste indiscrezioni? Secondo alcuni insider, la scintilla tra Giorgia e Andrea non si sarebbe mai spenta del tutto. Nonostante le sfide e le difficoltà, sembra che entrambi abbiano mantenuto un forte legame, alimentato anche dalla loro figlia, Ginevra. La famiglia, infatti, potrebbe essere uno dei motivi principali che ha spinto i due a riconsiderare la loro relazione. Inoltre, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono stati avvistati insieme in più occasioni, sia in momenti pubblici che privati. I due sembrano più uniti che mai, e questo ha alimentato le speculazioni su un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, lasciando il pubblico in sospeso. E ora, voglio sapere cosa ne pensate voi? Credete che sia possibile un ritorno di fiamma tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno? Pensate che le coppie famose riescano a superare le difficoltà meglio delle persone comuni? Fatemelo sapere nei commenti! Se vi sta piacendo questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna delle nostre esclusive. E se volete supportare la verità che in tv non vi dicono, abbonatevi al canale! E ora, il momento che tutti stavate aspettando. Siamo finalmente giunti alle nuove rivelazioni sul possibile ritorno di fiamma tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la coppia stia effettivamente cercando di ricostruire il loro rapporto. Alcuni amici intimi hanno rivelato che i due stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, lavorando su ciò che non ha funzionato in passato e cercando di ritrovare l'armonia. Quindi, mentre aspettiamo dichiarazioni ufficiali, possiamo solo immaginare che il futuro riservi delle sorprese per Giorgia e Andrea. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!